Gli applausi non mancano mai per iniziare sempre questa grande realtà che soltanto Ciao TV può dare a tutti quanti voi. Signori, mi manca la grande artista, collega, professionista Tania. Buonasera a tutta questa bellissima emittente di Ciao TV, a tutte le persone che ci stanno guardando. Vi ricordo per partecipare alla sesta edizione del Sognando con voi. Basta contattare al numero 081 70 50 132 Ciao TV a vostra completa disposizione. Per ogni artista che riesce a completare le cinque presenze alla sesta edizione del Sognando con voi avrà sempre diritto ad una premiazione in video per una settimana intera nel nostro palinzesto. E ancora una cosa per tutti gli artisti che sono fuori Napoli. Basta che venga una volta qui su Ciao TV, registra i propri brani e li manda in onda ovviamente tutti i giovedì. Inoltre vi voglio ricordare le nostre repliche che andranno in onda la domenica alle 13.30, sempre la domenica alle 19.30, poi ritorna il sabato alle 19.30. Signori e signori, alla sesta edizione del Sognando con voi. Canta! Direzione del Sognando con voi. Passata! Autore dei sorrisi